Codiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione mare si segnalano 3 km di coda per lavori tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Stanotte, in orario 22.06, sarà chiuso per lavori il tratto tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est, in direzione mare. Spostandoci sulla 1, in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est, in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!